Dunque, quindi vediamo l'effetto della reazione sui poli della funzione di trasferimento. Prendiamo tre casi notevoli. Allora, primo caso, immaginate che Acconè abbia un polo. Acconè che abbia un polo, quindi chiaramente il polo è reale, e beta invece sia resistivo. Resistivo vuol dire in pratica che sia una costante che non ha poli né zeri. Quindi questo vuol dire, per esempio, immaginare che Acconè si possa scrivere in questo modo, Acconè 0 diviso 1 meno S su SP. Chiaramente il polo di Acconè è SP. Adesso scrivo tutto nel dominio in S, e invece beta sia una costante. Allora, cosa succede? Vedete, questo ragionamento adesso è indipendente dal tipo di reazione che faccio, no? Perché qualunque modo, qualunque sia il tipo di prelievo, il tipo di inserzione, immagino di essere in questa situazione in cui Acconè abbia un polo e basta. È il caso questo in cui, per esempio, Acconè sia un amplificatore operazionale, no? Un polo e basta. Allora, Acconè è fatta in questo modo, è Acconè diviso 1 meno beta Acconè, quindi faccio la sostituzione, o se Acconè scrivo l'espressione con un polo, Acconè diviso 1 meno S su SP fratto 1 meno beta Acconè 0 diviso 1 meno S su SP. A questo punto io posso moltiplicare numeratore e denominatore per 1 meno S su SP, quindi mi viene Acconè 0 al numeratore, e qua mi viene 1 meno S su SP meno beta A è 0. Vedete, scritto così si capisce che Acconè f avrà un polo e nessuno 0. Provo a scrivere l'espressione di Acconè f come quella di Acconè, cioè mettendo a 1 i temi e noto del denominatore. Vedete, quindi per fare così devo dividere per 1 meno beta A è 0 e viene fuori questa espressione. A con E è 0 diviso 1 meno beta A è 0 fratto 1, che è il termine noto, meno, qui S diviso SP per 1 meno beta A è 0. Vedete, si vede quindi che c'è un termine costante, il numeratore è il valore di Acconè f nel limite S che tende a 0 e poi c'è un polo che è questo qua. Quindi io come posso fare? Posso dire, vabbè, io la scrivo così, questo numeratore lo chiamo Acconè f 0 perché è il valore di Acconè f con S uguale a 0 e questo lo scrivo in questo modo. È un'espressione con un polo. Questa cosa qui chiaramente la posso fare con queste due condizioni. Accon f 0 è uguale ad Acconè 0 diviso 1 meno beta Acconè 0 e poi SH è uguale a SP che moltiplica 1 meno beta Acconè 0. Vedete, allora, che cosa è successo? Che rispetto ad Acconè il polo era, il nuovo polo è, che vi ricordo è lo 0 del fattore di reazione, è il polo di Acconè moltiplicato per il fattore di reazione, a frequenza nulla. Quindi l'effetto della reazione sul polo è di aumentare, siccome, ad esempio, siete presenti, che tipicamente, non necessariamente, ma insomma tipicamente il fattore di reazione è molto grande, l'effetto è quello di spostarmi in alto il polo. Se uno meno, vedete, da questo si capisce anche che il fattore di reazione deve essere positivo, perché se parto da un polo parteriale negativa, moltiplico per un fattore di reazione positivo, ottengo un polo parteriale negativa, che quindi è un indicativo di un sistema stabile. L'altra cosa che, ovviamente, avete notato e che sapevamo già, è che l'amplificazione a bassa frequenza per S che tende a 0 è uguale all'amplificazione per S che tende a 0 del di Acconè diviso il fattore di reazione. Quindi notate questa cosa, che il prodotto di AF nell'amplificazione bassa frequenza per il polo, diciamo per il modulo del polo, che essendo il sistema a un solo polo è la banda passante del sistema, guardate, si va da fare il prodotto, il fattore di reazione nel nominatore e nel numeratore si semplifica e mi viene A con E0 per il modulo di SP. Vedete, questo qui è quello che abbiamo chiamato già prodotto guadagno banda. Guardate, questa cosa qua l'abbiamo notata una volta a modo più o meno episodico, per un esempio, che era il caso dell'amplificatore operazionale utilizzato per fare un amplificatore non invertente e avevamo notato che il prodotto guadagno banda è la costante. Però da qui si capisce che è vero in senso più generale. Tutte le volte che abbiamo un amplificatore con un polo in una reazione, con un beta costante, per cui la funzione di trasferimento complessiva rimane con un solo polo, allora vale il fatto che il prodotto guadagno banda è costante. Quindi, di una stessa quantità che il fattore di reazione, io abbasso l'amplificazione, aumento il polo e poi agisco, come abbiamo visto, sulle impedenze in base, in quel caso, al tipo di prelievo, al tipo di inserzione. Quindi, cosa importante, nel caso di sistema con un solo polo, la reazione mi aumenta il modulo del polo di una quantità uguale al fattore di reazione. Chiaramente questo è il caso probabilmente più rilevante. un sistema con un solo polo è un sistema passabasso, perché c'è una funzione di trasferimento che chiaramente è costante fino a, diciamo, che arriviamo al limite di banda, dopo la quale la funzione di trasferimento scende con la pendenza di meno 20 dB per decada. Ok? Dunque, ripeto, ragioniamo per casi. Questo è un caso semplice, ma abbastanza frequente. E vediamo un altro caso semplice, ma frequente, che è quello invece di sistema passalto, cioè uno polo e uno zero nell'origine. Allora, vediamo il secondo caso. Dunque, abbiamo detto A con E con un polo più uno zero nell'origine e per semplicità consideriamo beta resistivo. Resistivo, quando parlo di funzioni di trasferimento, una funzione di trasferimento resistiva vuol dire che a fase sempre nulla o pi greco, insomma, che quindi la funzione di trasferimento si può esprimere con un numero reale. Chiaramente questo è vero se non ci sono nella funzione di trasferimento capacità o induttanze, per questo si chiama resistiva. Allora, cosa vuol dire questo? Che A con E è fatto in questo modo. Chiaramente se ha un polo o uno zero nell'origine, il sistema passa alto e un sistema passa alto si descrive abbastanza bene scrivendolo in questo modo, S meno SP per A con E infinito per S. Perché lo scrivo in questo modo? Perché vedete, il numeratore è scritto in modo tale che si capisce che c'è uno zero nell'origine, il polo è SP, ed è chiaro perché quando S è uguale ad SP il denominatore si annulla, e il coefficiente, questo che ho chiamato A con E infinito, è chiamato così perché vedete, se faccio il limite per S che tende a infinito di A con E, quindi ad alta frequenza, mi viene A con E infinito. Allora, è utile che lo riscrivo due volte. Per questo gli do quel nome, d'accordo? Quindi chiaramente avete una funzione di trasferimento che, se faccio un micro diagramma di Bode qua in un angolo, è fatta in questo modo, no? C'è un limite in fiore di banda in corrispondenza del modulo del polo. Allora, beta lo consideriamo una costante per semplicità, e andiamo a calcolare adesso la funzione di trasferimento. Allora, devo fare A con E diviso 1 meno beta A con E. Che cosa viene fuori? Vedete, basta cambiare un po' le cose e cambia abbastanza il tutto, perché se sostituisco viene A con E infinito per S diviso S meno SP a numeratore, e a denominatore viene beta per la stessa roba. Quindi adesso moltiplico a destra e a sinistra per S meno SP, no, a sinistra, sopra e sotto per S meno SP, e viene A con E infinito per S, e al denominatore mi viene S meno SP meno beta A con E infinito per S. Allora, di nuovo cerco, chiaramente noto che ho uno zero nell'origine, vi ricordate abbiamo detto che gli zeri di A con E per forza sono anche gli zeri di A con F, e quando A con E va a zero, per come è scritto anche A con F va a zero. I poli invece sono diversi. E chiaramente A con F rimane con un solo polo, come si vede perché il denominatore è un polinomio di primo grado. Allora cerco di scriverlo come ho scritto A con E, cioè mettendo a uno il coefficiente di primo grado del denominatore. Per fare questo devo dividere per uno meno beta con E infinito. Facciamolo e viene una cosa del genere. A con E infinito diviso 1 meno beta A con E infinito per S fratto, qui viene S, meno SP diviso 1 meno beta A con E infinito. Allora questo lo scrivo nella forma, posso scriverlo in questa forma, A con F infinito S, perché per analogia con quello che ho fatto con A con E, A con F infinito ha lo stesso significato, sarà il valore di A con F quando S tende a infinito, diviso S meno, chiamiamo il polo SL, il nuovo polo SL. Chiaramente questa cosa qui la posso fare se definisco A con F infinito uguale ad A con E infinito diviso 1 meno beta A con E infinito e poi SL uguale a SP diviso 1 meno beta A con E infinito. Allora notate cos'è che è successo? Stavolta è successa una cosa parecchio diversa. Vedete, il polo nuovo è uguale al polo di A con E diviso il fattore di reazione. Non è per il fattore di reazione, ma è diviso il fattore di reazione. Quindi viene abbassato il polo. Nel caso di un sistema con un solo polo, il polo viene aumentato il fattore di reazione. Nel caso di un sistema con polo più 0 nell'origine, invece il polo viene ridotto di un fattore pari al fattore di reazione. La funzione di trasferimento invece viene divisa di nuovo per il fattore di reazione. Questo è ovvio perché se è vero che A con F è A con E diviso 1 meno beta A con E, quindi se è infinito sarà il stesso tipo di relazione. Quindi vedete l'effetto della reazione sul polo dipende molto da dove sono poli e 0 in partenza. Qui ho aggiunto soltanto un 0 all'origine e è cambiato tutto. Allora, vedete anche qua, in questo caso in realtà non ha tanto senso ragionare il prodotto vadagno banda perché il sistema è passato, quindi la banda è finita. Non ha senso. Però io quello che no, quindi non vado a cercare di capire se il prodotto vadagno banda è costante. La banda è, in pratica, è infinita. Vedo che sia la funzione di trasferimento, cioè la parte piatta della funzione di trasferimento, sia i poli sono stati ridotti della stessa quantità che è il fattore di reazione. Ho questa cosa qui, si apprezza bene anche se si vede, se si prova a guardare la cosa graficamente facendo riferimento al diagramma di Bode. Questo facciamo per tutti e due i casi. Allora, caso 1 e caso 2. Caso 1 un polo e caso 2 è un polo più 1, 0 nell'origine. Allora, facciamo un diagramma di Bode. Perché si nota una regolarità interessante, quindi metto sulle ascisse omega e scala logaritmica e sulle ordinate metto la funzione di trasferimento. Dunque, prima indico A con E. A con E, come è fatta? Sarà fatta così, quindi questo è A con E in dB, va bene? Questi sono dB. A con E sarà fatta con A con E0 in dB fino alla frequenza che corrisponde al modulo, la pulsazione che corrisponde al modulo del polo e poi dopo si scende con una pendenza di meno 20 dB per decade. D'accordo? Allora, poi ho visto che A con F0 è uguale ad A con E0 diviso 1 meno beta A con E0 e SH è uguale a SP per 1 meno beta A con E0. Questo abbiamo trovato. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se ho un certo fattore di reazione A con F è uguale ad A con E diviso quel fattore di reazione che vuol dire in dB traslare, no? Una divisione vuol dire traslare verso il basso di una quantità pari al fattore di reazione. Quindi questa qui è A con F0 in dB, va bene? Il polo viene aumentato di una quantità pari al fattore di reazione quindi in pratica se abbatto di un fattore 10 A con E0 è un aumento di un fattore di 10 polo per cui sono sulla curva meno 20 dB per decade. E questa cosa l'abbiamo già vista nel caso dell'amplificatore non invertente. Cioè questa quantità è di nuovo 1 meno beta A E0. Per cui di fatto mi trovo che di tanto abbatto il guadagno e della stessa quantità aumento il polo per cui in pratica tutte le funzioni di traslamento stanno sotto A con E0 e diciamo tendono a quella di A con E quando sono nella zona meno 20 dB per decade. E quindi le devo disegnare in questo modo. Questa cosa l'avevamo già vista. Una cosa analoga avviene anche nell'altro caso. Nell'altro caso abbiamo detto A con F A con F infinito è uguale ad A con E infinito diviso 1 meno beta A con E infinito. Invece il polo chiamato SL perché è un limite inferiore di banda sarà uguale a SP diviso 1 meno beta A con E infinito. Allora facciamo lo stesso disegno per capire. Allora qui metto i dB, qui metto omega in scala logaritmica. Come è fatto? Beh A con E è fatto così, mentre il valore esatto non mi interessa, a me mi interessa la forma, no? Quindi qua ad alte frequenze sarà uguale ad A con E infinito in dB. Quindi questo qui sarà il polo in modulo. D'accordo? Quindi un polo, questo corrisponde a, questa è una pendenza di più 20 di dB per decade perché abbiamo uno zero nell'origine, quindi il diagramma di Bode si parte con più 20 di dB per decade e poi c'è il polo, quindi il diagramma di Bode diventa costante. Questo è A con E infinito. Allora, che cosa succede alla funzione di trasferimento A con F? Vedete, la zona piatta, il valore asintotico A infinito viene abbattuto dal fattore di reazione e il polo viene abbattuto dal fattore di reazione. Quindi che cosa succede? Se questo è il fattore di reazione, siamo in dB, quindi una divisione e una traslazione, ok? Questo è il fattore di reazione, 1 meno beta A con E infinito, questo qui è A con F infinito, il polo viene ridotto della stessa quantità. immaginate che sia questo e quindi sta su questa curva più 20 di dB per decade. E' così la cosa. Vedete, è una cosa analoga a quella che succede di là perché la quantità di cui viene traslato il polo è pari al fattore di reazione. E quindi anche sul fronte a meno 20 di dB per decade, diciamo, al variare del fattore di reazione, le funzioni di trasferimento stanno sul, diciamo, si appoggiano tutte sull'asintoto a meno 20 di dB per decade. Ok? Quindi vedete, effetto della reazione sui poli. Se il sistema passa alto, sposto in alto il polo, quindi aumento la banda se è alto il fattore di reazione, no, sbagliato, se il sistema passa basso, con la reazione io aumento il limite superiore di banda del fattore di reazione. Se il sistema passa alto, invece, con la reazione io riduco il limite inferiore di banda del fattore di reazione. Ok? 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 Grazie a tutti. Bene, allora, vediamo un terzo caso per completare il quadro. Abbiamo preso un sistema passabasso, un sistema passalto, vediamo un sistema passabanda. Passabanda con una banda ampia. Ok? Il sistema passabanda, voi sapete, posso descriverlo con un acone, con due poli reali, più uno zero nell'origine. I due poli reali immaginate che siano sp1 e sp2 e per comodità immaginiamo che siano uno molto più grande dell'altro. Ok? Per esempio sp1 in modulo molto più piccolo di sp2. Quindi la funzione di trasferimento facendo un micro diagramma di Bode di acone viene fatta in questo modo. Quindi c'è una zona piatta, sp1 che è il polo in basso, sp2 che è il polo in alto. Ok? La parte centrale la chiamiamo AECB, 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 cioè una parte centrale della banda. E per esempio, quindi possiamo scrivere una cosa del genere. A è uguale ad AECB per s meno s su sp1 per 1 diviso 1 meno s su sp2. Vedete, lo scrivo in modo un pochino ibrido, tra i due, perché si capisce meglio il limite. Vedete, perché se vale questa relazione che s è nella zona centrale, cioè molto più grande di s più 1, ma è molto più piccolo di s più 2, il modulo, allora la prima frazione tende a 1, anche la seconda frazione tende a 1 e quindi AE è uguale a ECB. La zona centrale tra i due poli, abbastanza distante sia da uno sia dall'altro, il valore della funzione di trasferimento è questo coefficiente AECB. Vedete, quindi il denominatore è di secondo grado, il numeratore ha soltanto temi di primo grado perché ha uno 0 nell'origine. Allora, adesso prendo un beta costante, quindi resistivo, e vediamo che succede alla funzione di trasferimento. Allora, devo fare A con F, è uguale ad A con E, diviso 1 meno beta A con E. e procedo, viene AECB per S diviso S su SP1 per 1 diviso 1 meno S su SP2 Dunque, faccio così, moltiplico e diviso 2, e qua viene 1 meno beta AECB e qua viene 1 meno beta AECB S su SP1 per 1 meno S su SP2. Dunque, faccio così, moltiplico e divido per S meno SP1 per 1 meno S su SP2 e poi mi viene una cosa del genere AECB per S diviso S meno SP1 per 1 meno S su SP2 meno beta AECB S. Allora, che cosa è successo qui? Allora, in pratica, cosa è successo? Il denominatore è il denominatore iniziale tranne una variazione che ho fatto sul termine di primo grado. sul termine di primo grado. Dunque, Devo fare una piccola approssimazione, vediamo un po' di farla con due passi. Non si riesco a farla. Non si riesco a farla. Mi serve un po' di passaggi, facciamoli. Allora, cosa faccio qui? Devo svolgere. Svolgo, scrivo le cose in ordine, prima il termine noto, che è meno SP1. Poi il termine di primo grado, che è 1 meno SP1 diviso SP2 meno beta AECB. Poi qui faccio il termine di secondo grado, che è meno S quadro diviso SP2. D'accordo. Allora, dovete notare questa cosa. Se trascuro questo termine, perché questo termine è molto più piccolo di 1 il modulo, no? Vi ho detto che SP1 è molto più piccolo di SP2. e questo termine lo posso trascurare. Allora, se trascuro questo termine, è un'approssimazione, ma insomma, diciamo, ci conviene farlo, allora posso anche fare questa operazione e dividere tutto per 1 meno beta con ECB in modo che il termine di primo grado mi torna 1. Quindi qua viene AECB diviso 1 meno AECB per S e qua mi viene meno SP1 diviso 1 meno beta AECB più S più anzi meno S quadro diviso SP2 per 1 meno beta AECB C più più D più 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 meno più t più Allora, questa cosa qua, con una piccola approssimazione posso scriverla così, S meno SP1 diviso 1 meno beta AECB, che moltiplica 1 meno S su SP2 per 1 meno beta AECB. E qui c'è sempre AECB per S diviso 1 meno AECB. Allora, guardate, le due cose sono uguali, in realtà c'è un termine in più perché questo è un prodotto di due binomi, quindi ha quattro termini, non tre. Però notatevi un attimo, il primo termine è il prodotto di questo per questo. Il secondo termine è il primo mononimo per il primo. Il secondo è il secondo, va bene? Poi il termine S quadro è questo prodotto, mi rimane soltanto il termine, il secondo. Cioè il, vediamo un po', qui lo vedete, questo prodotto per questo, però perché non, ok. Questo prodotto per questo, che qui non c'è, va bene? Qui sono termini di primo grado, vedete, che però è fatto del tipo SP1 su SP2 diviso il fattore di reazione al quadrato, che andrebbe a sommarsi a questo, è un termine che è molto più piccolo di 1 perché era più piccolo di 1, anche semplicemente SP1 su SP2, se è ridotto ancora il fattore di reazione, insomma è praticamente trascurabile rispetto a 1. Quindi io qui metto un circa uguale, ma l'approssimazione è molto buona. Perché mi conviene farla vedere così? Perché vedete, una volta che la scrivo così, questa qui è, mi fa vedere quali sono i nuovi poli e quali sono i nuovi zeri. I nuovi poli è la funzione di reazione del centro urbano. Cioè adesso io mi copio questo, me lo riscrivo nella pagina successiva. Prego. Dove? Qui dice. Sì, sì. Eh sì, no, non lo, sì. Sia qui sia qui, non l'ho, l'ho detto probabilmente a voce e poi non l'ho scritto. Quindi vedete, il fattore di reazione capita esplicitamente tre volte. Ok? Allora, riscriviamolo e facciamoci il ragionamento sopra. Quindi abbiamo detto, mi viene una cosa del genere, ma riscrivo pari pari. Ecco. Penso che ne sto scrivendo troppo piccolo. Faccio un po' schermo un po' più grande. Allora, A con F è uguale ad AECB diviso 1 meno beta AECB. E qui c'è per S e poi qui c'è S meno SP1 diviso 1 meno beta AECB che moltiplica 1 meno SP2, no, 1 meno S su SP2 1 meno beta AECB. Quindi, vedete, questa cosa qui è interessante perché ha esattamente la stessa forma di A con E. Cioè, posso scriverlo in questo modo. A con FECB per S diviso S meno SL che moltiplica 1 meno S meno S su SH. Questa è la forma. E questa è la forma di un passabanda, con una banda molto ampia. Quindi, vedete, quali sono le uguaglianze che devo fare. A FECB è uguale ad AECB diviso 1 meno beta A con ECB. Il polo piccolo SL sarà uguale al vecchio polo piccolo diviso il fattore di reazione. Il polo più grande sarà uguale al polo più grande per il fattore di reazione. Quindi, vedete, il polo più piccolo è stato ridotto ulteriormente dal fattore di reazione. Il polo più piccolo è quello del limite inferiore di banda. Il polo più alto, quello del limite superiore di banda, viene aumentato ancora del fattore di reazione. E il valore della funzione di trasferimento dal centro banda viene ridotto dal fattore di reazione. Quindi, in pratica, se io disegno il diagramma di Bode, cosa ottengo? Immaginate che sia fatta così A con E quindi, questa è con E, CB questo è più 20 di B per decade e questi sono i meno 20 di B per decade quindi questo qua è il limite inferiore di banda vecchio, è quello che abbiamo chiamato modulo di SP1 questo qui è il modulo di SP2 va bene? Ora, che cosa succede? Se chiamo se 1 meno beta con E, CB è il fattore di reazione a centro banda immaginate che sia questo 1 meno beta a E CB a centro banda questo qui è il valore dell'amplificazione però il limite inferiore di banda viene ridotto della stessa quantità quindi va a finire qui, di nuovo su questa curva perché questa quantità è 1 meno beta a E, CB quindi qui questo qui sarà il modulo di SL e la stessa cosa vale per il limite superiore di banda e succede la stessa cosa che abbiamo visto separatamente per il sistema passa alto e il sistema passa basso quindi a variare il fattore di reazione sto sotto la curva e tocco diciamo in regioni in cui cioè fuori dai limiti di banda in cui la pendenza è meno 20 di B per decade anche in questo caso in pratica partendo da un sistema di questo tipo ho un'idea molto precisa di che effetto causa la reazione ed è uno strumento di progetto importante quindi io decido di inserirlo in un sistema quando voglio alterare diciamo alcune proprietà del sistema e so che comunque ne altero tante contemporaneamente ok? perché io altero un pendenza inglese su uscita limite inferiore di banda limite superiore di banda valore di centro banda tutto tocco però lo tocco in un modo che posso prevedere e infatti va scelto in modo di volta in volta opportuno questi sono gli effetti a consigliare l'altra cosa da notare è che vedete se il sistema è stabile all'inizio quindi SP1 e SP2 sono reali e negativi chiaramente deve avere il fattore di reazione positivo perché così anche nuovi poli mi rimangono reali e negativi e quindi il sistema rimane stabile questa è una cosa importante perché se facessi sbagliando il fattore di reazione quindi scegliendo segno sbagliato chiaramente tengo un sistema instabile quindi insomma vanifico tutto ok? prego il prodotto del raggio di banda è addirittura aumentato il prodotto del raggio di banda è addirittura aumentato il prodotto del raggio di banda dunque in realtà come dire strettamente sì se uno va a fare un conto diciamo analitico perché dice lei il limite superiore di banda abbiamo aumentato il fattore di reazione già quello basterebbe a mantenere il prodotto del raggio di banda costante no? però mi si riduce il limite di banda quindi il prodotto di guadagno banda è aumentato quindi rigorosamente sì in pratica no è rimasto costante perché noi abbiamo già detto che sp1 è molto più piccolo di sp2 quindi se abbasso ancora sp1 in pratica non cambio la banda marginalmente l'aumento ma l'aumento è trascurabile sta dentro le approssimazioni che abbiamo fatto quindi di fatto mi rimane il prodotto di guadagno banda costante anche in questo caso si immagina che io abbia una banda in partenza che va da 10 hertz a 10 kilohertz poi uso un fattore di reazione pari a da 10 hertz a 10 kilohertz la banda è praticamente 10 kilohertz ok? 10 hertz è trascurabile se uso un fattore di reazione pari a 10 in una situazione di genere la banda mi va da 1 hertz a 100 kilohertz giusto? praticamente sono 100 kilohertz quindi di fatto ho aumentato un fattore di 10 e la parte in basso non con l'ipotesi di partenza che comunque la banda sia grande non mi modifica significativamente la diciamo il prodotto guadagno banda va bene io faccio una pausa ancora